bene ci siamo spostati sul tavolo allora qua abbiamo il processore in questione amd atlon 3000 g nella mia scrivania abbiamo posizionato la scheda madre vi ricordo prima di eseguire lavori sulla scheda madre o sul computer scaricate l'elettricità statica non smetterò mai di dirvelo a questo punto vi starete chiedendo in che verso viene posizionata la cpu vi do questa dritta allora in ogni processore è presente questo triangolino dorato anche nella scheda madre è presente un triangolino ve la zoom un attimo intanto ve la giro allora abbiamo girato la scheda come vedete qui c'è un triangolino lo vedete dove c'è la scritta hdmi al contrario allora questo vi fa capire che il vostro processore deve essere installato in questo modo qua cioè i due triangolini devono corrispondere così non potete sbagliare è l'unico modo soprattutto in questi processori e con questa scheda madre per quanto riguarda intel la situazione è un po diversa perché la struttura è diversa comunque sono sempre presenti i triangolini così non potete sbagliarvi allora che cosa andremo a fare dovremmo andare a sollevare questo perno in questo modo così perfetto una volta sollevato prendiamo il nostro processore mi raccomando fate attenzione ci sono dei piedini sotto per cui fate molta attenzione prendetelo così dai lati ecco qua il triangolino deve corrispondere col triangolino e lo andiamo a posizionare ok lo andiamo a posizionare in questo modo verificate con questo movimento che sia ancorato come vedete i due triangolini corrispondono adesso dovete andare ad abbassare questa leva non preoccupatevi non spaventatevi se sentite un po' di resistenza è normale ecco qua e il nostro processore è perfettamente ancorato a questo punto molti di voi si staranno chiedendo che tipo di dissipatore andrai a montare le scelte sono due o dissipatore ad aria o un dissipatore a liquido qual è la differenza lo scopriremo nel prossimo video intanto in questi giorni penserò a quale sarà la scelta migliore per raffreddare questo processore sicuramente non quello stock o altri progetti non mi interessa andarlo a montare come avete visto la procedura è semplicissima in pochissimi minuti riuscite a installare la cpu nella vostra scheda madre fate sempre molta attenzione a come prendete la cpu ci sono sotto dei piedini sono molto delicati per cui prendetelo sempre dagli angoli fate sempre molta attenzione guardate bene che i due triangolini corrispondano una volta appoggiato con un piccolo movimento assicuratevi che sia perfettamente appoggiato abbassando la levetta il gioco è fatto a questo punto voglio sapere la vostra fatemi sapere qui sotto nei commenti se anche voi vi siete cimentati nell'assemblaggio del processore e se avete avuto difficoltà nei prossimi video vedremo la scelta del dissipatore per questo processore a questo punto non mi resta fra l'altro che salutarvi da atlant 3000 g alluretec era tutto noi ci vediamo in un prossimo video ciao